Il Comune di Fano apre le iscrizioni ai corsi di formazione professionale per tecnico del marketing turistico e addetto all'attività di promozione e accoglienza turistica. I corsi di formazione sono parte dell'azione di promozione culturale e turistica legata alla fabbrica del Carnevale, ovvero al progetto di riqualificazione e rigenerazione dell'ex collegio del Sant'Arcangelo di Fano. I corsi sono gratuiti e destinati a 15 partecipanti più 3 uditori per ciascun progetto. Sono rivolti a disoccupati e o inoccupati residenti o domiciliati nella Regione Marche, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, coerente rispetto ai contenuti del percorso. Gli avvisi pubblici e relativo modello di domanda di iscrizione sono consultabili all'albo pretorio online del Comune di Fano all'indirizzo www.comune.fano.pu.it. Invia la tua domanda entro il 10 dicembre 2020, con raccomandata, a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Fano negli orari di apertura al pubblico, tramite PEC all'indirizzo comune.fano-emarche.it. Se vuoi sapere di più, contatta il Servizio Cultura del Comune di Fano.